Derby terramano al Pigliacelli tra Alba Montorei e Piano della Lente, due squadre a caccia di punti per muovere la classifica dopo le sconfitte della prima giornata, rispettivamente con Tornimparte e Celano. Mister di Giuseppe Antonio si affida al triente di Gianberardino, di Ludovico e Pigliacelli. Bucciarelli risponde con Pelusi, Novello e Mirko e Simone Fratini. Il match è ricco di colpi. L'Alba Montorei parte forte e nei primi dieci minuti sfiora il gol per tre volte. Al quinto minuto Pigliacelli sfrutta un langio lungo. Calcia, ma la palla grazie ad una deviazione finisce alta. Tre minuti dopo, cavalcata dalla destra di Di Ludovico, che serve di Gianberardino in area, ma il suo tiro deviato sfiora il palo. Al nono, Fragassi mette un buon pallone al centro. Pigliacelli in corna, ma Amatucci si supera. Proteste Giallonere al quindicesimo per un presunto fallo di mano in area di Verruschi. Il signore Arnese di Teramo lascia proseguire. Il calcio di rigore arriva al venticinquesimo, ma per gli ospiti. Rinaldi crossa, Urbani va col braccio largo. Per Arnese non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto si presenta Novello, che spiazza Bartolomei. 0-1. Prova a reagire all'alba Montaurè con il solito Pigliacelli, che stoppa il pallone con il petto e tira al volo, ma non inquadra lo specchio della porta. L'ultima occasione del più tempo è per il piano della lente. Fantozzi crossa per Novello, che da pochi passi manda a lato. Si va a riposo sullo 0-1. Nella ripresa, la partita si fa più nervosa. Pelusi all'undicesimo calcio alto, una punizione dal limite. Al ventunesimo, i gialloneri si affacciano in area. Cross basso di Nallira, Pigliacelli fa il velo. Un difensore ospite libera in corner, rischiando l'autorete. Dieci minuti dopo, arriva il gol del pareggio con Pigliacelli. Gli ospiti protestano per un tocco di mano del numero 9, non ravvisato dal direttore di gara. Il minuto dopo è molto teso. Prima viene espulso un componente della panchina dell'Alba Montaurei. E subito dopo, il piano della lente resta in dieci. Espulso con le vecchio per una reazione. Allo 45esimo, Novello prova a dare i tre punti agli ospiti, ma la sua conclusione si perde sul fondo. Termina 1-1, un punto che muove la classifica di entrambe, con mister Di Giuseppe Antonio, che può recriminare per qualche occasione sprecata dalla sua squadra, soprattutto nei primi 45 minuti. Sì, alla fine sì, un buon pareggio, anche se rivedendo un po' le occasioni avute, soprattutto in una prima frazione, parlo del primo quarto d'ora, abbiamo creato almeno due o tre palle golle clamorose. Però il calcio è questo, sono contento comunque della prestazione della squadra, che rispetto a domenica scorsa ha fatto totalmente un'altra partita. Era quello che avevo chiesto, di carattere, di voglia, di corsa, e l'abbiamo fatto. Certo, un po' la mare in bocca per il pareggio, però alla fine, ripeto, sono contento della prestazione. Sinceramente sono soddisfatto solo del punto della partita di oggi, perché secondo me non meritavano neanche il pareggio. A fine partita ho fatto i complimenti all'allenatore e avversario, perché secondo me hanno disputato una gara molto migliore della nostra, sotto tutti i punti di vista, quindi sono soddisfatto solo del punto, che secondo me non meritavamo.